Si tratta di una potenza giusta che noi condividiamo contro alcune politiche di natura comunitaria che non sono assolutamente condivisibili, contro alcune questioni che riguardano in questo momento anche il nostro Paese, l'aumento del carburante agricolo, l'aumento dei costi energetici e l'IRPEF sui redditi dei terreni agricoli. Questo si assomma ad una serie di questioni rispetto alle quali noi diamo risposta perché in questo momento stiamo dando risposta, sia sulla questione dei pagamenti che riguardano una congiuntura nazionale, non è sicuramente il nostro ente pagatore ma rispetto ai quali stiamo spingendo per essere ancora una volta fra le regioni che riescono a pagare i propri agricoltori prima di altri e anche su altre questioni come quella dei consorsi di bonifica che è una questione che ereditiamo ed infine la questione degli ungulati per la quale abbiamo avuto in questi giorni l'approvazione del PRIU quindi speriamo di dare le risposte giuste e il confronto continuo. Assolutamente è così come ha descritto, io sto venendo da Crotone e per strada ho incontrato diversi presidi degli agricoltori protestano a giusta ragione perché qui le leggi che in Europa fanno sembra che tengano conto di tutto tranne che un settore come quello trainante dell'agricoltura di fatto sta morendo. I costi sono diventati insostenibili e veramente si rischia di lavorare a vuoto e di non produrre reddito. Poi sulla zona del Crotonese abbiamo altri problemi come quello dei cinghiali e tanti altri per cui è arrivato il momento dove questa protesta credo che non solo si sta ampliando ma è arrivato il momento di ascoltarli ai piani alti. Stamattina siamo qui alla regione ovviamente, ringrazio l'assessore Gallo che l'altra volta ha accolto una delegazione di agricoltori del Crotonese e questa mattina torniamo per affrontare problemi come la PAC, la siccità che sono i veri problemi del nostro territorio.